Nei giorni scorsi siamo stati a Beccetto, frazione di San Pere, a 1383 metri sul livello del mare, tra valli montane conosciute in provincia di Cuneo per le ricche tradizioni occitane. Abbiamo conosciuto un'azienda agricola del circuito Coldiretti Campagna Amica, che racconta una storia di ritorno alla terra e di presidio del territorio, la storia di una famiglia che ha resistito e risposto con tenacia alla crisi determinata dell'emergenza sanitaria, reinventando la commercializzazione dei suoi prodotti. Siamo a San Pere, nel cuore della Valle Varaita, ci troviamo nell'azienda agricola Dal Bessè, un'azienda di montagna, un'azienda di famiglia, una famiglia che abita questo territorio ormai da tempo, ha un legame fortissimo con le tradizioni occitane di questa vallata, ma che al tempo stesso guarda avanti, lo fa ormai da tanti anni, con uno spirito innovativo che in quest'area quasi non ha uguali. Sì, noi siamo un'azienda agricola di allevamento di razza pezzata rossa italiana, mio papà è stato l'artefice di questa azienda, ma lui inizialmente abitava a Torino, la vita di città non faceva per lui, ha voluto ritornare alle sue origini, che era qua di Becetto e quasi per scherzo ho comprato la prima mucca per avere un po' di latte al mattino per la colazione e adesso ci ritroviamo con 180 capi. I miei genitori, ma comunque anche noi, io e mia sorella, siamo molto legati a questa zona, legati al mondo occitano, alla cultura occitana, tant'è che abbiamo dei nomi occitani, i nostri genitori occitani, ci piace parlare occitano tra noi familiari, ma anche con amici o persone più anziane, cerchiamo di portarle avanti orgogliosi. Uno dei punti cardini della nostra attività è che abbiamo voluto comprare una razza di animali che qua in Valle Varaita e comunque generalmente nella provincia di Cuneo si trova poco, perché ne fa da padrona invece la razza piemontese, ma appunto abbiamo scelto una razza di vacche a duplice attitudine, quindi per sviluppare due settori, che uno è quello della linea lattiero-casearia, mentre l'altro è quello della linea carne. Un investimento molto importante è stato fatto nel 2004, quando si è voluto acquistare, quasi per scommessa, un impianto di mungitura volontaria. Si tratta di un robot da mungitura, un impianto automatizzato, acceso giorni e notte, 365 giorni l'anno. Apporta benefici in stall per il benessere animale, perché garantisce l'accesso autonomo e volontario delle vacche alla stazione di mungitura nel pieno rispetto dei ritmi naturali. Tutto il latte che viene monto in azienda viene trasformato nel casificio a 11 km dalla stalla. Realizziamo circa una ventina di prodotti, dai tomini freschi alle cagliate lattiche, la ricotta. Facciamo anche una linea su formaggi semi stagionati, più stagionati, dal nostro allè di montagna, un formaggio che è tipo un taleggio, quello pasta dura, l'erborinato, che è un po' il nostro punto cardine, che si chiama il grigio di becetto, altrimenti dei formaggi aromatizzati, l'atumbo che scapo, che è un formaggio a pasta molle, fa assomigliare un po' al blochon francese. Notevole prodotto che va molto nei mesi più caldi è lo yogurt, facciamo sia naturale che alla frutta. Per quanto riguarda la linea degli animali da carne, non siamo noi che li lavoriamo direttamente, ma ci appoggiamo a una cooperativa di CUNO, la Compral. Tutti questi prodotti vengono venduti direttamente al consumatore finale, abbiamo il sito, il punto vendita, aperto tutti i giorni e in più facciamo quattro mercati settimanali per appunto portare i nostri prodotti, far conoscere i nostri prodotti anche nel fondo valle. L'emergenza sanitaria ha rallentato, ma non ha fermato l'attività dell'azienda, che ha saputo reinventarsi una chiara dimostrazione della tenacia della nostra agricoltura di montagna. Per un'azienda agricola di montagna come la vostra, com'è stato vivere questo periodo di lockdown e di emergenza da coronavirus e che cosa avete fatto per riuscire a rimanere a galla? Col coronavirus dal mese di marzo, da metà marzo, ci siamo mossi per quanto riguarda il lavoro aziendale in un altro modo, ci siamo inventati un nuovo mestiere. Dato che gli animali, le mucche fanno latte tutti i giorni, per andare incontro anche a una parte dei nostri clienti che acquistano prodotti da noi da molto tempo, abbiamo cominciato con le consegne a domicilio. Inizialmente facendo solo la Valle Varaita e Bassa Valle Varaita e poi dopo abbiamo cominciato a girare facendo tanti chilometri, uscendo anche dalla provincia di Cuneo e servendo anche la provincia di Torino e qualcosetta nella provincia di Asti. Siamo stati una delle prime aziende collegate a Campania Amica ad aderire a questo progetto e ad affrontarlo e portarlo avanti. Siamo stati soddisfatti, è stato un servizio molto complesso e delicato, però abbiamo visto i nostri clienti molto contenti e soddisfatti appunto del lavoro fatto. Tant'è che valutiamo, adesso lasciamo passare il periodo estivo, ma credo nel periodo tunnale, che è un periodo un po' più tranquillo per la montagna, valutiamo di riprendere per alcuni posti questo progetto.